L'acconciatura è la cornice del viso di una donna, un richiamo al suo fascino. Per Giuseppe Santocchio, ogni pettinatura è un'opera d'arte che racchiude l'essenza femminile, valorizzandone la sua immagine. Nei suoi saloni, la professionalità e il talento dello staff sono messi al servizio delle tendenze più attuali in un sapiente gioco di tecniche, tagli e colorazioni. L'utilizzo di prodotti professionali che rimpolpano il capello sono una coccola di bellezza. Gli stili, dal naturale classico all'innovativo urban style, sono frutto di una continua ricerca, perché l'immagine migliore di sé passa anche da un cambio di look. Santocchio, i parrucchieri, creazioni di tendenza, creatori di emozioni.